Buongiorno, qualche tregua il tempo tutto sommato la concede, però possiamo confermare che di tempo stabile, a lungo, come si comincia un po' ad aspettare, in realtà non ce n'è. Qualche pausa un po' più ampia ci sarà agli inizi della settimana, ma questo fine settimana a partire da oggi ci saranno delle zone.